Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Dai che è venerdì, il weekend è quasi alle porte, anche se io sono ancora alle prese con il maledettissimo Covid e a tutti i dolorini che mi sta provocando, ma dai, roba da ridere. C'è chi l'ha preso sicuramente in maniera peggiore. Allora, qualche altra informazione riguardo a quello che è stata, anzi a quella che è la giornata di oggi legata al discorso Juventus. Continua a venire fuori delle intercettazioni telefoniche e queste intercettazioni telefoniche vengono fatte passare un po' come la prova definitiva della colpevolezza della Juventus. Io continuo a leggere che a ogni intercettazione ci sono alcuni utenti che continuano a dire eh ma questo è gravissimo e la cosa mi fa abbastanza sorridere. Quindi continuiamo questo giochino dato che è il gioco delle parti, no? Cioè la parte che parla in un certo modo male della Juventus per mettere in cattiva luce, c'è la controparte che vuole dimostrare che queste cose nello specifico sono ridicole e che non lo hanno a che vedere con un discorso di penalizzazione o robe varie. E ve lo dimostrerò con i fatti in maniera concreta, non con delle chiacchiere perché poi quello che verrà fuori in futuro se ci saranno stati degli errori più grossi, se saremo toccati dalla giustizia sportiva per errori veri, ci sarà da star zitti a mettere gli errori e pagare. Non è questo, lo torno a dire per credo l'ennesima volta, non è questa la volontà di far passare, cioè tutti innocenti perché non ho la più palla di idea, ma certe cose che vengono messe sui giornali per fare per la Juventus brutta, cattiva e puzzolente. Beh no, non ci sto, dato che anche ieri mi avete detto che sto perdendo un po' di obiettività e che sto facendo classici discorsi da tifoso invece che accettare il fatto che la situazione è grave. Beh ragazzi, io provo a darvi anche questa lettura qua, anzi partiamo da qui. Questa è Rai, ieri sera dopo la partita del Mondiale. Vi faccio ascoltare tutto quello che è accaduto, adesso ascolterete proprio in cuffia. Un attimino, vi rimetto l'audio. Eccoci qua. Questo è Enrico Lubrano, avvocato diritto sportivo. Il terzo punto è relativo alla situazione degli accordi con i giocatori. In questo caso è prevista, nel caso di accordi con i giocatori, in violazione della normativa federale, è prevista una sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. Grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, potrebbe rischiare una rinforzazione che è successa nel Bonilla Fè e potrebbe essere... Cioè, avete capito, avete capito, invitano un avvocato di diritto sportivo, gli chiedono che cosa rischia la Juve con quello che è successo e dice, con il discorso stipendi rimandati, la scrittura e i calciatori potrebbe rischiare qualche punto di penalizzazione al massimo. E la conduttrice, dirai, pagata quindi anche con i soldi pubblici, sì, faccio un po' il populista, perché la disinformazione a questo livello, ragazzi, se questa non è macchina del fango, ditemi che cos'è, lo zittisce, lo saluta e mentre torna in studio dice, bene, l'avvocato ci ha fatto capire che l'evento si rischia la retrocessione come nel 2006, bastava semplicemente ascoltare quello che è stato appena detto, invece che inventare per far passare un messaggio, perché questo vuole far passare un messaggio, questa non è macchina del fango, quindi io devo stare zitto, non devo farle notare queste cose, io a queste cose farò la lotta fino all'ultimo momento, perché va bene il processo, va bene eventualmente riconoscere errori, va bene sbagliare e riconoscere di aver sbagliato, ma questi non sono errori dell'Iventus, questa è una volontà di far passare la Juventus ancora più cattiva di quanto non sia stata, farla passare già per colpevole, aver già tirato fuori una sentenza, perché? Perché poi alla fine quando l'Iventus non verrà retrocessa, perché l'Iventus non verrà retrocessa, cosa si potrà dire? Anche questa volta l'hanno scampata, perché questo è il giochino, questo è il giochino, deve intervenire Tardelli e dire, oh, cosa stai dicendo, non ha mica detto questo, e la conduttrice balbettando su tutto, eh, 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 va bene, sarò un obiettivo, che cosa vi devo dire ragazzi, avrò perso obiettività, ma io queste cose non ve le faccio passare, eh, io queste cose non le faccio passare, ho il canale per diffondere, combattere queste cose, informare il popolo juventino di queste puttanate, perché queste sono puttanate, sono cattivere gratuite, sono attacchi gratuiti, e io queste cose le faccio vedere, non sto zitto, mi dispiace, non è non essere obiettivi. Passiamo alle intercettazioni, perché, allora, questo è il profilo di Matthij Spog, che è un ragazzo che riporta tutto quello che accade sul web bianconero, e voglio leggervi un po' di intercettazioni che ha riportato all'interno del suo profilo, e dice, in due anni hai buttato via tutto, 700 milioni messi dagli azionisti, hai messo tutto a rischio perché hai deciso di mandare via due persone che probabilmente era giusto a tenere, ricostruzione, forse, sa ripirlo, non si sa, questo è un discorso che ha fatto Chirubini a Paratici, intercettato a livello telefonico. Questa intercettazione telefonica cosa dovrebbe dire di cattivo, di errato, di sbagliato lato Juventus? Non sto capendo, non vedo in quale modo questa cosa possa danneggiare la Juventus, cioè al massimo danneggia la Juventus perché Paratici ha fatto delle cavolate durante la sua gestione finale, è infatti stato mandato a casa, non mi pare che ci sia niente di legale. Andiamo avanti, a marzo si è parato di fare 300 milioni di plus valenze, giuro che tornavo a casa e mi veniva a vomitare solo a pensarci, acquisti senza senso, investimenti fuori portata come Kuluseschi, uso eccessivo di plus valenze, Paratici ha drogato il mercato, altre intercettazioni di Chirubini? E qua qualcuno potrà dire, eh ma 300 milioni di plus valenze, lui stesso che lavora a Juve torna a casa e viene a vomitare, ci arriviamo, leggiamole tutte prima, leggiamole tutte. Il mercato l'anno scorso era pensato solo per fare plus valenze, che fottuto mercato, Allegri e Chirubini in metà 2021 in una telefonata intercettata, quindi bisogna capire di quale mercato si sta parlando, probabilmente quello di Pirlo, probabilmente quello di Pirlo, e anche qua qualcuno potrà dire, eh ma vedi, volevano fare le plus valenze, loro volevano fare le plus valenze, andiamo avanti, andiamo avanti perché poi ci arriviamo. Siamo stati arroganti sul mercato e Ronaldo si è innescato il nostro circolo vizioso perché i soldi di Pogba, cessione 2016, sono stati spesi per pagare due clausole recessorie, Higuain e Pjanic. Anche qua, non capisco dove possa essere qualcosa di dannoso per l'Iventus, non lo capisco, non lo capisco, davvero non capisco, non lo so, non lo so. Andiamo avanti, ce ne sono delle altre. Una frase di Paratici e Chirubini, dobbiamo essere aperti a tutto, la priorità sarà vendere in prima squadra, ma allo stesso tempo prepariamo la cessione ai giovani. Anche qua, non vedo niente di negativo, se non il fatto che Paratici ragionava esattamente all'opposto rispetto a come sta ragionando oggi la Juventus e quindi la Juventus di Paratici ha avuto una direzione, una conduzione totalmente differente rispetto a quella che c'è adesso. Andiamo avanti. Allegra e Chirubini, nel mercato l'anno scorso c'era solo Plus Valencia, era un mercato ridicolo. Sul mercato Paratici è stato imbarazzante. Storare, dobbiamo sistemare la merda che ha lasciato Paratici. E anche qui ragazzi, io non vedo niente di... Non vedo niente. E allora vorrei passare a rispondervi alla domanda relativa alle Plus Valencia, perché qualcuno potrà dire che, eh sì sai, però le Plus Valencia, si parla di Plus Valencia, però ragazzi un attimino. Noto ufficiale FIGICI, 15 aprile 2022. Trimunale nazionale federale ha definitivamente prosciolto i deferiti. E qua c'è l'elenco, ve li leggo perché magari è un troppo piccolo. Fabio Paratici, Federico Chirubini, Andrea Agnelli, Pavel Nedved, tutto il CDA della Juventus, più bla 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 altre persone, e in più le squadre. Le squadre Juventus, Sampdoria, Napoli, Provercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Chievo, Novara, Pescara. Tutte le squadre che erano coinvolte all'interno del discorso legato alle Plus Valencia è che sono stati prosciolti. Perché? Perché è stato deciso, deciso tra virgolette, è constatato che non era una pratica illegale. La Plus Valencia di per sé non è una pratica illegale. Perché non esistono criteri soggettivi per la decisione del valore di un giocatore. È stato utilizzato troppo dalla Juventus? Sì, decisamente sì, ma non lo scopriamo certo oggi, non lo scopriamo certo il 15 d'aprile. Lo scopriamo quando si facevano queste cose, siamo andati a vedere i video vecchi. Tante volte l'ho detto, basta con queste Plus Valencia perché poi arriva al punto che scoppi. E ci sono delle intercettazioni tra Nedved, anzi tra Agnelli ed Elkan, dove viene sottolineata questa cosa, dove si dice ragazzi, a forza di dai e dai, le Plus Valencia ci hanno ingolfato il mercato. A me, da queste intercettazioni telefoniche, viene a pensare un'una e una cosa sola. Che non c'è stato niente di illegale. Che è stato sfruttato troppo un meccanismo che ha dei buchi, grossi buchi, e che va sicuramente rivisto. Non si può più lasciare il mercato in questo modo. Perché sennò ognuno è libero di dare la valutazione che preferisce a un proprio giocatore e quindi scrivere a bilancio una cifra diversa anche magari da quella che può essere il valore reale. Ma il valore reale è una cosa che non esiste di per sé. E quindi ci saranno delle necessità di intervenire sotto questo punto di vista. È stato fatto troppo. Probabilmente sì. E questo ha danneggiato la Juve dal punto di vista del bilancio. Probabilmente sì. E non è stata solo la colpa di Cristiano Ronaldo, ma anche di una cattiva gestione finanziaria della Juventus. E appunto, qui si viene nel discorso un po' più delicato, cioè che Juventus internamente aveva delle frizioni importanti, importanti probabilmente. Tante volte che ci siamo trovati qui a dire boh, abbiamo dei dubbi, non stiamo capendo come funziona, sembrano delle follie. E anche dentro Juventus c'erano queste voci, queste chiacchiere. Lo stesso Cherubini che non è d'accordo con Paratici, lo stesso Allegri che non è d'accordo con il mercato, lo stesso Agnelli che non è più d'accordo sul modo di fare mercato. Addirittura si dice che due persone sono state mandate via ingiustamente. Non sappiamo se sono davvero gli allenatori, se sono altri dirigenti, non lo sappiamo. Ad oggi non lo sappiamo, ma quello che è certo è che internamente alla Juventus c'erano delle frizioni per quanto riguardava le decisioni da prendere in determinati momenti e la gestione che è stata portata avanti fino a quel punto lì. Quindi questa è la cosa che mi viene a dire dopo questa lettura, perché se vogliamo spostare il discorso sulle intercettazioni, ribadisco. FGC tramite un atto ufficiale il 15 di aprile ha però sciolto i deferiti. Però attenzione, perché mi è arrivato un messaggio in privato proprio mentre preparavo questo video e mi hanno detto, una fonte autorevole perché se no non ve la citare nemmeno, il processo FGC degli ultimi mesi era abbastanza inutile in realtà, basata soltanto su una piccola parte di quelli che erano gli atti della procura, dato che non si poteva diffondere nulla. Ora che le indagini sono finite, terminate, possono avere tutti i faldoni. Dentro i faldoni potrebbero esserci delle prove decisive sul dolo. Infatti la FGC ora è in un punto morte, in un vicolo cieco, in cui non sa cosa dover fare se impugnare le decisioni sul filone del plus valenza e quindi quello che abbiamo appena letto. E intanto si lavora su qualche manovra legata agli stipendi, perché comunque qualcosa all'interno del calcio italiano va modificato perché è un po' insostenibile. È una rielaborazione del messaggio che mi è arrivato. Quindi significa che potrebbero saltare fuori nuove cose dopo il processo già concluso con la nota ufficiale della FGC dove sono stati tutti prosciolti e non c'era solo a Juventus. Quindi il discorso plus valenza è più ampio. Poi, per quanto mi riguarda, io ad oggi sono molto più preoccupato per quanto riguarda gli stipendi. Lì sì che sono un po' più preoccupato, ma sulle plus valenza sono abbastanza tranquillo io in realtà. Sulle plus valenza sono abbastanza tranquillo. L'abbiamo detto mille volte. Il discorso plus valenza può far saltare il banco in Serie A. È quello che diceva Gravina l'altro giorno. Attenzione, attenzione. Potrebbero essere coinvolti altri soggetti. Quindi per quanto riguarda le plus valenza io sono sereno. Sarei anche stupito dopo due processi già in cui Inter e Milano sono stati prosciolti e questi Juve, Napoli e gli altri sono stati prosciolti. Adesso ne facciamo un altro invece dove rimettiamo tutto in discussione. Allora, prima si fa una regola. Prima si fa una regola e non può essere retroattiva. E per me è giusto farla, perché si è abusato e questo è fuori dubbio. Però era una pratica lecita perché non c'è una regola che oggi ti impedisce questa cosa. Per quanto riguarda gli stipendi lì bisognerà vedere. Juventus ha detto che secondo loro è stato fatto tutto regolamentare. Quindi speriamo che sia davvero così perché lì se no qualche punticino a livello sportivo può venire fuori. Qualche penalizzazione sportiva può venire fuori. Vedete può, potrebbe, chissà. Invece no. Tocca leggere sui giornali che le intercettazioni sono già decisive. Intercettazioni sono ehi, guarda qui di cosa si sta parlando. E sentire il Rai che la Juventus riesca l'arretrocessione come nel 2006. Dopo che un esperto invitato proprio dalla Rai dice tutto il contrario di tutto. Tutto ciò è bellissimo. Ha un non so che di poetico. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.